Inizieranno il 1 ottobre le attività scolastiche degli ormai ex alunni dell'Istituto Fiorentino e degli scolari del plesso Marconi. E quanto disposto dall'ordinanza sindacale emessa nella giornata di ieri, che oltre a confermare il declassamento della scuola fiorentino, non più agibile perché non idonea dal punto di vista antisismico, ha anche disposto il rinvio al 1 ottobre dell'apertura dell'Istituto Marconi, che in questi giorni è oggetto di una serie di lavori finalizzati alla messa in sicurezza di aule e servizi igienici. Interventi urgenti che hanno reso necessario lo slittamento dell'inizio delle lezioni al 1 ottobre. Il provvedimento ha inoltre ufficializzato i trasferimenti degli ex alunni della Fiorentino. La scuola d'infanzia sarà ospitata dagli edifici di proprietà comunale denominati Poliziano in Largo Sant'Anna e Caduti della Velella in Via Etruria. La scuola secondaria sarà trasferita nel plesso Marconi di Via Serroni, mentre l'intero ciclo della scuola primaria sarà trasferito presso l'Opera Bertoni, situata nel rione Sant'Anna.